L'ultimo che smette di giocare a Holy Up vince 1000€ E per rendere ancora più interessante la sfida Ogni 10 minuti dovremo girare la ruota delle penitenze Che ci farà fare una penitenza per farci sclerare Powa non so se hai capito la mole di questo video Ma noi dovremo giocare a Holy Up finchè non sclereremo Non quitteremo eccetera Ma se dovessi sclerare e quittare perdi 1000€ Quindi è importante eh Ma tu mi spieghi una cosa Perché mi hai invitato in sto video che dire Disgustoso, accelerante, acceleroso Vale a dire poco Perché sei Powa e sono convinto che riuscirai a quittare Prima di me Oddio le ragliettele mi fanno rimbalzare È vero aiuto 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 Oddio guarda dove sono volato bro Guarda dove sono volato bro Che cazzo sei cazzo Non lo so Come fai a esserla Oddio Non lo so però mi sto divertendo Che spiegata Non ci sto capendo niente Raga questa qua è la nuova Holy Up chapter 3 E il problema è che è un po' strana onestamente Cioè è di Oddio Powa dove sono andato Powa porco due No Refè non fare la pippa dai Già che lo sapevo tutti Che se è una pippa evita Per favore ok Quello che però come ho detto È che adesso io ho fatto partire un timer Raga di 10 minuti E ogni 10 minuti dovremo girare la ruota delle penitenze Sopra ci sono delle penitenze Che dovremo andare ad affrontare Raga E dureranno finché non rigireremo la ruota Quindi per 10 minuti uno di noi avrà la penitenza E zio Fidati che sono quelle Quelle che ti faranno decidere di quittare Sclerare Cambiare gioco Non ti preoccupare che vincerò io E su questo non c'ho dubbi praticamente Porco mondo Ma che hai vincito Ma per favore dai su Ascolta vieni sulla statua qua Ma vieni sulla statua Ma sono all'inizio Sono all'inizio Aspetta refe c'è un problema Io non so però dove Cacchio d'aria È la prima volta che ho gioco questa mappa Allora Purtroppo è anche la mia di prima volta E onestamente io penso che Quello che sto facendo adesso Sia un trick shot più o meno No 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 ok ok Meno male Oddio per pochissimo Come già arrivo là sopra Qualcuno me lo spiega raga Oddio sono il re Il fenomeno Regale Let's go Sto volando Powa Ma va Vola Ma dove vola Vola a fanbego Vola Ah no No Sono caduto Porco mondo Sì Sì godo Godo Tu sei infame Tu sei infame Tu sei infame Cazzo Tra l'altro Powa Manca veramente veramente poco tempo Al primo giro di ruota Ti voglio solamente dire Ne mancano tipo 3 minuti E perché me lo dici a me Perché me lo dici come se già dovessi fare io la penitenza bastaso Non è che la devi fare tu Semplicemente ce la dovremo giocare bro In una maniera che tu non hai neanche idea Comunque Qualcuno mi spiega cosa devo fare sopra la stato di The Roach Devi prendere il C'è un Joe Robo che ti fa volare Prendi quello Va figa Allora mi sa che il Powa è ricaduto Dove sei andato Oddio Ok Ok Powa Ok Ok un bel cacchio Ok un bel cacchio Io sono ancora all'inizio Porco mondo E su questo io posso godere Regà Manca ancora poco Sempre meno al primo giro di ruota Mi raccomando Voi lasciate un bel like Iscriviti al canale Tietro al campionale Codice Refe Nello shop Arriviamo Powa Ma Refe hai detto Hai detto mi raccomando Vabbè ho sbagliato Se non ci posso stare Comunque ragazzi Sì 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 Hai capitato la season 2 Let's go baby Allora regà Mi raccomando Come vi stavo dicendo Arriviamo a 4000 like Se volete una seconda parte Di questo video E qua sono sicuro Di caderci bro E invece no Perché sono veramente Il player più forte Ma speriamo bro Speriamo che cadi cacchio Speriamo Ma tu sei un gufo di merda Frati E io sono Fra fra Sai qual è il mio Il mio rumore Cioè io non sono un fenicottero Che fa Il gufo Io sono un gufo Che fa Ok però aspetta un secondo È arrivato il momento Di girare la prima volta La ruota Quindi signori Giro la prima volta La ruota Attenzione regà Vediamo un po' Su che cosa capita Vediamo un po' Su che cosa capita Gioca da pad Bro Allora Ti lascio fare gli onori Se vuoi Ti lascio fare gli onori Però anche te Sei un po' vastaso Quindi devo iniziare io Mi stai dicendo Direi che è il momento Di attaccare il pad Poi sai perché Te lo faccio fare a te Per iniziare a introdurti Alla sfida Perché poi sulla ruota Ci stanno delle penitenze Che quando le leggerai Poi mi insulterai il doppio Probabilmente Ma porco madre Oh mio dio Stavo cadendo qua Quindi niente vai Inizio a giocare da pad Anche se non ci ho mai giocato Letteramente in tutta la mia vita Let's go baby Ok signori Quindi prove da pad Per i prossimi 10 minuti E ti prego Pua Sclera Fammi il favore Refe c'è un problema Non so come correre Come corro raga Ma Refe Ma io ho il pad rotto Mi ero dimenticato Che questo calcolo è rotto Figa E guarda E guarda Purtroppo ormai Stai giocando da pad Non puoi più tirarti indietro Purtroppo Perché stai parlando Da romagnò Da milanese Figa Perché sono milanese Però Purtroppo non puoi più Tornare indietro Ormai l'hai fatto Ciò che è fatto No Refe Refe Non so come si corre Letteramente Devo correre Ma non so come si corre Andiamo nelle impostazioni Va Allora Facciamo una cosa Mentre devo andare nelle impostazioni Refe Cerca di capire Dove cazzo devi andare Per favore Perché non ci sto capendo Una beata secchia Ah Ok Ti dico solamente una cosa Io sto in season 2 Ok 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 No raga Non si può giocare da pad Refe sei un bastasino Porca boia Allora ragazzi Io sono forte Perché sono forte Però c'è anche da dire Che è difficile Porca Di quella Sei vecchio Ma tu non hai capito La season 2 vecchio È la cosa Porca 2 No Ok Codo 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 No dai Refe Porca Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Ti dico solamente Che lì sono appena caduto Fra E non è che sono caduto Perché sono scemo Ma perché è veramente impossibile Cioè tu lo garantisco Ok E intanto io sto cercando Di fare anche Oh dio c'è un trick qua Mi sa Si può andare di qua In qualche modo No scherzo Non lo so Vabbè Refe Comunque ti dico Io sono qua alle ventole Alle valvole Sto arrivando eh Non so dove tu sia Io ti aspetto molto volentieri Ma intanto ormai qua L'abbiamo masterizzata La mappa ragazzi Let's go baby E intanto Pua Deve stare ancora Con il suo paddino Per altri 5 minuti Raga E qua noi possiamo Solo che godere Fidatevi Dai la smetti Mannaggia Basta Secondo sei altro Ok Sto arrivando Let's go Ho fatto un trick signori Ho fatto un trick signori Non ci credo Sono troppo forte Refe Mi dispiace Tu vai avanti a dire Che sei troppo forte Prima o poi Sai cosa succede Pua Che cosa sentiamo Prima o poi succede Che è quello che Cado Che cado Dai ma per favore Su Ragazzi Cioè solo per questa cosa qua Mi raccomando Inserite tutti nel negozio oggetti Il codice Codice Refe Ragazzi mi raccomando Sempre solamente codice Refezione No Refe Cioè io non stavo dicendo Proprio quello Però va bene comunque dai Eh beh tu stavi dicendo Proprio Refe Io sono sicuro No 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 Vabbè comunque ragazzi Chi non usa il codice Refe Non è figlio di Maria Oddio Bro non so dove sto andando Letteramente Oddio dove stai andando Non ho idea bro Non so che posto sia Aspetta Aspetta no frate Dove cazzo devo andare Aiuto Qua forse ok Qua 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 Ma mia signora è troppo forte raga Ma come è andata Andare là in alto così veloce Zio scusami eh Eh scusami È normale basta che vai Ecco guarda Vedi facilissimo Adesso invece si percorrono Questi cosi qua I camionisti si percorrono Tu sei un camionista Refezione Tu sei un Un alieno brutto No effettivamente ragazzi Non ho messo la mucca Sono un pirla Probabilmente per questo Che perdo la raga Mucca è per sempre Mucca non si infama Ricordatevelo Mi raccomando as always Ok Sì ma io ti ricordo Che sto giocando da pad E sono comunque avanti E tra l'altro ti mancano ancora Due minuti eh Per giocare da pad Meno male Meno a Addio Oddio Oddio Ok Porca di quella È molto più difficile Di quel che penso Non sto scherzando No No vecchio No vecchio No vecchio No 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 Allora aspetta Non sono caduto del tutto Non sono caduto del tutto Porca Tutto 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 Bastato Bastato Che non sei altro Guardatele i meriti tutte Dai raga basta Posso smettere di giocare con sto pad Sì Sì Sono vivo Sono vivo Regà È il momento del prossimo giro di ruota Ed è uscito regà Questo è grave regà Per i prossimi dieci minuti Devo giocare facendo il trick impossibile Che cosa è il trick impossibile Powa? Il trick impossibile è Giocare da bendato E Tirarti un pugno in faccia No il trick impossibile ragazzi È fare un 360 ogni volta che faccio un salto Quindi 360 Oddio L'ho fatto Sono fenomeno Ma che trick del cacchio è? Ogni volta che salto devo fare il 360 Oddio Salto 360 Frate Guarda che è bello tosto Onestamente Sì così ti viene da vomitare in tempo zero Porco Ok Regà Porco Vinci Porco Vinci Porco Sì 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 godo godo No ref è bastato Oh mio dio Sei poco sopra di me Sei poco sopra di me Eh regà ma il 360 Vecchio è la cosa più complicata di sto cacchio di mondo Te lo giuro Eh io godo Sai cosa si dice in questi casi? Urlo del godicchio Perché godo? Perché godo? Ah godo Godo No questo non era un verso Proprio di godo Io godo se tu adesso ti sbaglio cani Hai tolto il pad comunque Sai che puoi toglierlo Sì certo che l'ho tolto L'ho tolto Quando hai girato la ruota l'ho tolto Sega tutto da mouse da stiera pure Tre volte Senti per 8 minuti siamo tra l'altro Così tanto Porca boia Pensavo di Avere fatto letteralmente 10 metri Vabbè Queste sono affermazioni Che valgono solo per te Visto No in realtà anche per me Visto che sono caduta Lui tu Senti tu sei 20 metri più di me Se va bene Let's go Season 3 baby Fran ti sto scopando Sto veramente Ma cosa mi stai scopando? No 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 Io lo scopo No 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 Ma vecchio Ma si rompe la rapicata Dio Cristio Dimmi che sei caduto tutto Ah no 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 Non sei caduto tutto No regà allora Allora È il momento di ricirare la ruota Per forza di cose Perché regà Ma poi Non è neanche colpa del 360 È colpa proprio della mappa Che fa cagare Oddio Mi sono bagato attraverso i blocchi Ref sono dentro un blocco Ref sono dentro Ref non riesco a uscire Ok Non so com'è possibile Comunque regà Tra poco è il momento della ruota Non vi preoccupate Lo so che è il momento che aspettate di più In questa challenge Non vi preoccupate Ma fatemi semplicemente Rimbalzare qua ragazzi Aprire ora il deltaplano E appena arrivo da Pua regà È il momento del prossimo giro di ruota Che tra l'altro toccherà Pua questa volta Dai ma sempre a me Oh mamma mia Che palla Che se tu fai i terecabelli Io faccio quelli di schifo Si gira la ruota È il momento di far sfiderare Pua regà È il momento di far sfiderare Sentiamo su sentiamo Vai Codice Ref signori È uscito Codice Ref Sempre importantissimo Sai che cosa Ref Io dico invece Codice Pua Codice Pua raga Sempre Attenzione È il momento Visto che hai detto questa bellissima cosa di Codice Ref bro Come penitenza ti è capitata la benda sugli occhi Porco 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 Quindi metti qualsiasi cosa Un cappellino Qualcosa che ti copra la visuale brother Perché è il momento di non vedere più quando gioca Aspetta un attimo Ref ma io ho gli occhiali gialli Gli occhiali superpoteri Quelli lì Cioè valgono comunque No no non valgono non valgono Mi devo metterti qualcosa che non ti faccio vedere bro Comunque non devo sprecare tempo Mentre il mio Pua è lì Che si mette una benda E poi per 10 minuti regà Sarà impossibile che giochi È proprio impossibile Vedrò giocare Io corro Io corro Io corro Ok Ref Non vedo Mi sono messo sto cappellino Che è già sul sudato Figuriamoci dopo Pua ma che cos'è Pua ma che cos'è Ma si vede che ci vedi Pua No 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 Io non potrei No non è vero Ma è impossibile No no Mettito davanti agli occhi Proprio precisamente Eh Davanti agli occhi Pua No c'è no davanti agli occhi Ma ragazzi ma lo vedete Che vede perfettamente Tutto quello che va a fare Cioè Che scandaloso Uomo scandola proprio Uomo scandola Riempi secondo te Io vado a perdere ogni app Scusami Con tutto bene del mondo Ma non posso Sì ma coglione Ma qualcuno dovrà pur sclerare Se no stiamo qua fino a domani mattina Non sclero Non hai capito Io non sclero Fino a quando non mi dai 200.000 euro Quelli che hai detto Ecco Eeeh Beh effettivamente mettere in palio 1.000 euro Per non sclerare Come 1.000 euro Non era 200.000 Ma allora che cacchio gioco a fare Ciao refe Ci vediamo Eh ciao Pua Non è un problema Tanto non gli avresti comunque vinti Visto che sei una sega Ci sta Oh Senti Il fratello non sto vedendo Sto facendo dei trick clamorosi Non sto vedendo Ok bro D'accordo Bro tu mi spieghi come diamine Sei arrivato là vecchio Non riesco a avere sto salto Eh ma bro Perché quando uno Eh Usa il codice refe Se vede Non ci credo Non ci voglio futtutamente credere Ma non ci voglio No no refe Oddio non so dove sto andando Sono proprio cieco Eh sì guarda Non lo direi Regà Veramente un dislike a quest'uomo Per favore Un dislike Ma cosa Se mai vi iscrivetevi al canale Proprio al mio canale Perché sono la persona più simpatica Di questo mondo E più forte Merda Cioè io mi immagino i ragazzi Adesso che stanno proprio a ridere Proprio a crepa pelle Eh proprio Eh beh ovvio Che è che non stai ridendo Ah ah Oddio Che ha smesso di ridere frate Lo giuro Mi sono di aver scoperto letteralmente Il nuovo trick della vita Comunque raga Oddio Mi fa male gli occhi Da quanto sto vedendo nero Porca che barba Così non vale Diciamoci la verità Così non vale Ma cosa non vale Ma per favore Ma stai zitto Ma cosa non vale Dai stai zitto Ma ci sta che tu devi barare Per vincere le challenge Cioè non è mica Non è mica Io barare Non lo direi mai Faida Che cazzo hai detto Ok ok signori Ce l'ho fatto Ho fatto il salto No scusami Mi stavo impegnando Per quello No raga ditemi nei commenti Che cazzo ha detto Ditemelo per favore Ditemelo per favore Perché secondo me Non lo sa Nemmeno Pua Vabbè ho detto Faida Viva la faida Allora Dove sono Refe Dove sono Refe Sono dentro sto posto Che fa schifo In tutto questo Io non sto neanche vedendo È inutile che continui A prendermi per il culo Pua Lo sappiamo che ci vedi Dai basta È inutile Io vedere Com'è possibile Io non posso vedere Non posso letteralmente vedere Perché sto facendo la challenge Dai vecchio Quello però lo devi fare Quando ci sono io Allora raga Però c'è un problema Che cosa che è successo Cosa hai detto Scusami No T'ho avvertito su una cosa Perché vabbè è importante Comunque raga Io mi sto veramente rompendo il cacchio Cioè non vedere Da dieci minuti Mi sta veramente rompendo il cacchio Dai su Tira sta ruota Tira sta ruota Pov ne sono passati tipo Neanche cinque Ma va bene Neanche cinque Ma non esagerare Ma sai che io ho visto La speedrun di questa mappa Quella ho su tutta memoria Sì Grande Infatti vedo come sei Tanto in alto bro GG Next giro di ruota Continua a fare I complimenti a Powa Ah Impossibile Impossibile Cos'è che sono Refe Sono molto migliori di te Vero E' bello Guarda guarda come è bravo E soprattutto Utilizzo nelle lego soggetti Il codice più bello Più Infatti Infatti il più bello Il codice Refe bro No io non utilizzo Eh no vai Non utilizzo Mi dispiace C'è scritto di fare i complimenti a Powa Non al codice di Powa Mi dispiace Codice Refe Codice Refe Solo codice Refe Raga Sotto nei commenti Ditemi che team siete Codice Refe o codice Powa Vabbè ovvio dai Ma manco da dire Scusami Mi sembra logicamente Codice Refe Powa ma comunque Ci sta però Anche se dicessero il tuo Ci sta perché Tu comunque sei Cioè abbastanza forte Ecco abbastanza forte Sono molto forte Molto più forte Prima t'ho scassato Io non lo vivo Non lo vuoi dire Abbastanza Abbastanza forte Abbastanza Porca No 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 Vecchio Vecchio Allora però Sto gioco non puoi essere caduto No 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 E' per forza colpa della mappa Per forza colpa della mappa Sì per forza colpa della mappa Fa schifo Non la vedi con te storta Certo ma perché tu sei il player più forte Capito Evita di cadere Evita di cadere più Non hai affari il culo Ok ci sono arrivato GG per me brother Let's go baby Ma bro è impossibile Oddio No Sì Wow Powa sono stato veramente bravo Mi sono Mi ricordavo quasi te bro Da quando sono stato bravo Te lo giuro Ovvero sei Un fenomeno Vero Immaginavo Non ci sono arrivato Perché sono bravo Ma anche un po' stupidino Ok Mai ai livelli di Powa Mai ai livelli di Powa Aspetta Mi hai insultato Non ci ha aggiungo più Però ti piaceva Cioè te le mezza stavi dicendo la verità Quindi ci stava Ok era Powa Vediamo un po' che cosa capita Guarda adesso Adesso va a capitare tipo qualcosa Di impossibile Che mi devo buttare Ti dico E mancano solo due di penitenze Questa l'abbiamo già fatta Regà È uscita una penitenza Che forse Powa non voleva sentire No no Ti prego È il momento di Fare una foto ai tuoi tasti Per andare avanti Saltare E arrampicare No No È letteralmente impossibile E inserire i miei Non i miei quelli che uso Ma inserire quelli che ti dico io Powa Porco Porco mondo Porco mondo Porco mondo Allora Che direi che Regà Sto un attimo guardando la tastiera La sto un attimo guardando la Secondo me Per saltare Ci starebbe un bel control Porco Che schifo Che fai vecchio Fai solo schifo Per correre Secondo me Per correre invece Ci starebbe un bello zero Che basta Beh no È possibile Un zero Si dai control Zero Apostrofo Vecchio apostrofo mi dice Sì 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 Quello 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 Apostrofo Direi che Hai dieci minuti Per divertirti Powa Bro Bro Sono esattamente all'opposto Della tastiera No raga Che sbocco Puoi cagare Bro Let's go baby E qua si recupera Powa Regà E qua si recupera Powa Allora Ti ho appena fatto 12 miliardi di complimenti Powa Direi che questa è la mia vendetta Ok 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 raga Allora vi dico solo una cosa È difficile Però Però ci sono Però ci sono Sono qua fattibilissimo Oddio Oddio Sto già imparando a utilizzare i tasti Prefe Ok 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 No ma vecchio Ma io continuo a cadere su questo Ma sono o stupido O stupido a quanto pare Porco due No raga No 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 Sarai ci sopra No 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 Sono finita Sono finita la season 2 Eh bro La vita è questa La vita è questa Regà 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 Guardate che va a finire Che chiudo io per primo il video E vince poco i soldi No 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 Sì 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 Oddio raga È stradificile vi giuro Perché io sto giocando Con una mano Destra L'altra sinistra L'altra mezzo di là Mezzo Cioè non si capisce letteralmente Un cacchio Regà Il problema è che Se riesci ad andare avanti Anche con questi tasti Io La prossima penitenza Regà La penitenza che rimane È la più brutta Affidate La penitenza che rimane È la peggione No oddio Oddio mi so Oddio non so come ho fatto Non morire bro Non so come ho fatto Non lo voglio neanche sapere in realtà Davvero Non vorrei saperlo Te lo giuro No Voglio impazzire Voglio fortunatamente impazzire Voglio fortunatamente impazzire Raga non ci credo Vieni Vieni Pivaz Vieni Pivaz Dai dai che ci cadi qua Ciao Pivaz No No bro no bro Vaffanculo io abbandono sto video di merda Ciao ciao refe Davvero Davvero Ma non perdere così Non ci sono soldi Basta Ciao E regà Regà Let's go Abbiamo vinto Mille euro Mi raccomando Un bel like Codice Raffinando la show In descrizione al prossimo video Questa è tutto Bella regà